Sono Marino Battini, direttore del progetto per il nuovo stabilimento di Comer Industries in Reggiolo, provincia di Reggio Emilia, stabilimento che si è dovuto provvedere in base ai danni rilevanti dopo gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012. Abbiamo dovuto abbattere due stabilimenti quasi adiacenti per i danni subiti e abbiamo realizzato questo nuovo stabilimento. Per primo abbiamo delocalizzato una grossa parte di attività in locali esterni presi in affitto e abbiamo riprogettato il nuovo e con particolare attenzione a quello che vuole essere gli aspetti di risparmio energetico e gli aspetti ambientali di vivibilità da parte degli addetti. Gli addetti sono 260-270 persone, lo stabilimento è stato progettato per ospitarne 360 perché prevediamo una crescita nel futuro che nel 2018-2020 dovrebbe portarci a saturare 360 persone. Quindi tutto quanto è già predisposto dai servizi, agli uffici, agli spazi anche produttivi per poter arrivare ad una capacità produttiva circa il 40% superiore a quella pre-terremoto. Particolare attenzione è stata data agli impianti, tutta l'area industriale è con riscaldamento a pavimento a bassa temperatura, l'acqua a 28-32 gradi a secondo il freddo e il clima esterno, azionate da pompe di calore e con due caldaia di riserva in caso di emergenza. Il raffrescamento viene attivato con dei Viltil con vettori ed abbiamo imposto particolari soluzioni tecnologiche proprio per poter risparmiare il più possibile di costi energetici. Tutta l'illuminazione dell'area industriale, uffici e quant'altro è con l'illuminazione a LED dimerabile in automatico in base ai rilevatori che ci dicono quanti lumen abbiamo e quindi andiamo ad ampliare più o meno l'intensità dell'illuminazione a LED fino a spegnerla quando l'illuminazione è sufficiente, quella naturale. Abbiamo anche quello che vuole essere dispositivi che in periodo estivo ci aprono in automatico le finestrature quando la temperatura esterna è inferiore a quella interna quindi raffreschiamo di notte l'ambiente e al mattino le pompe di calore che devono generare il freddo per la climatizzazione estiva anziché partire alle 7 del mattino partono indicativamente alle 10.30-11 quindi risparmiamo circa 3 ore di attivazione delle pompe di calore quindi ulteriori risparmi energetici. Questo nell'ottica di quello che vuole essere una climatizzazione ottimale un ambiente che possa essere ottimale e l'abbiamo riempito anche come finiture con parecchio verde interno proprio per poter rendere piacevole quello che vuole essere l'ambiente di lavoro lavoriamo ma se lavoriamo in un ambiente piacevole forse riusciamo a lavorare anche con più soddisfazione e con più attenzione e qualità in quello che facciamo.